Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il Bibio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. Per quanto riguarda la FIPILI segnaliamo che è stata riaperta l'uscita di Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1, Firenze e Impruneta. Per il trasporto pubblico locale è in corso per tutto marzo la sperimentazione tariffaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Pontassieve-Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!